Buongiorno, oggi parliamo ancora di un tema urgente e grave, quello dell'energia. Nelle prossime settimane questo sarà un problema drammatico per le famiglie e per le imprese. Per effetto della guerra in Ucraina il costo dell'elettricità e del gas è salito da 4 o 6 volte in un anno. La prima emergenza che riguarda direttamente ogni italiano è l'aumento di luce e di gas. Il pericolo è che le famiglie rischino di dover scegliere fra pagare le bollette o fare la spesa. La seconda emergenza sono i costi per le nostre industrie. Oggi il gas in Europa costa 9 volte quello che costa negli Stati Uniti. Le aziende italiane pagano l'elettricità 4 volte quello che la pagano le aziende americane. Con l'Asia il divario è ancora più forte. Questo significa che le aziende dovranno aumentare i prezzi per i consumatori, quindi tutto costerà di più, diminueranno le vendite e soprattutto diventerà impossibile competere con la concorrenza internazionale. Di conseguenza molte aziende potrebbero dover chiudere o dover ridurre il personale con conseguenti sociali molto molto gravi. E quindi la cosa più urgente è fermare subito questo processo. Come? Agendo sulle tasse per ridurre il costo dell'energia a un livello accettabile. Ma se siamo a questo punto dobbiamo anche ricordarci che ci sono delle responsabilità precise. Infatti in nome di un'ideologia sbagliata sull'ambiente la sinistra ha detto sempre no a tutto e così non abbiamo fonti di energie alternative. Ecco perché la prima cosa che il nostro governo dovrà fare saranno far partire immediatamente come priorità assoluta i rigassificatori, i termovalorizzatori, gli impianti per le energie rinnovabili come vento, sole, idroelettrico, la ricerca per il nucleare pulito senza il quale non ci sarà un futuro sostenibile. Allora, se anche tu credi che l'Italia debba difendersi da questa minaccia, se anche tu credi che sviluppo e ambiente siano stradi compatibili e non alternative, allora il prossimo 25 settembre non puoi ignorare la possibilità di cambiare una situazione che dura da troppi anni. Lo puoi fare andando a votare e naturalmente dato il tuo voto a noi, a Forza Italia.